L'estate 2023 rappresenta per Pesaro la prova generale in vista di Capitale Italiana 2024. Sono numerosi gli appuntamenti in programma raggruppati in un unico Deblian per guidare i cittadini pesaresi in una stagione ricca di eventi tra arte, cultura, natura e musica. È una programmazione della vera e propria area metropolitana, normalmente, ma anche da Capitale e della Cultura in divenire. Vogliamo dare la sensazione e la realtà, la percezione di una città che è già pronta a essere Capitale Italiana e della Cultura 2024 e soprattutto lo facciamo consolidando delle strategie già avviate per abituare intanto il nostro pubblico, quello pesarese, della provincia e della regione, per poi essere più credibile nell'accogliere il pubblico nazionale e internazionale della Capitale 24. Una mostra del cinema già annunciata con grandissimi nomi, da Tornatore a Dante Ferretti a Carlo Verdone, Lusso Dalla che sarà protagonista di una mostra e evento incredibile, che qui a proposito di Capitale e di area metropolitana arriva a Pesaro, dopo Bologna, Roma e Napoli, per dare idea un po' della costellazione, del parterre con cui lavoriamo in questa direzione. Ulisse Fest che si conferma su Pesaro ampliando le giornate, quindi passando da 3 a 4 e con anche un'apertura affidata a Vinicio Caposela con l'apertura con il nuovo album e tanti temi legati al viaggio alla sostenibilità che sono esattamente quelli che vorremmo raccontare con la Capitale 24. Pop Sofia che ritorna e si consolida in un'edizione che sarà ancora più importante in previsione anche della Capitale 2024 e un Rossino parafestio con anche l'inedito di Edoardo Cristina che completa quindi insomma il primo giro della sua missione di restituire tutti i titoli rossiniani che quindi anche solo per questo sta già avendo un interesse mondiale molto importante. Una mezzanotte bianca dei bambini confermata a inizio settembre perché crediamo che così possa avere anche il respiro maggiore per diventare un po' anche la seconda vacanza magari di tante famiglie che anche con la curiosità aumentata dalla Capitale 24 potranno vedere la nostra città in uno dei momenti probabilmente migliori. Appuntamento anche con l'enogastronomia Grazia Cali City, con l'animazione di Caterraduno, con il teatro e con la musica di Mira al Teatro d'Estate e i concerti di Xanitalia ma anche con l'atmosfera magica di Candele sotto le stelle. Sarà un'estate particolarmente vivace, piena di attrattiva per i turisti che torneranno nella nostra città in forza. Devo dire che i primi segnali come Rossini Opera Festival sono molto incoraggianti anche per quanto riguarda il ritorno degli ospiti da più lontano. Il Giappone sta tornando in maniera importante al Festival quindi direi la migliore premessa per un'estate veramente capitale.